Terremoto nel mondo della cultura e del teatro a Teramo, sì, proprio a Teramo che si candida a Capitale della Cultura 2020. Una guerra in piena regola tra Abruzzo, circuito, spettacolo che mesi fa si è giudicato il bando del Comune di Teramo per la gestione e ristrutturazione del Cineteatro Comunale e la società di musica e teatro Riccitelli. Entrambe propongono una propria stagione teatrale e la Riccitelli usufruirebbe gratuitamente delle 25 giornate che il gestore deve lasciare a disposizione del Comune. Una concorrenza sleale, secondo Abruzzo, circuito spettacolo, che auspica l'avvicendamento e la presenza di diverse associazioni culturali al Comunale e non di una sola. Ma la situazione si complica ancora di più. I consiglieri comunali Maurizio Verna e Francesca Di Timoteo, rappresentanti istituzionali nel CDA della Riccitelli, rendono noto di un esposto indirizzato al Comune di Teramo che avanza dubbi pesanti sui titoli presentati da ACS per aggiudicarsi il bando di gestione del Cineteatro Comunale. I vostri sono solo dubbi o c'è qualcosa di più? Qualche certezza? Allora, noi diciamo da consiglieri comunali ma anche da componenti del CDA, oggi veniamo qui a riportare i dubbi che sono stati esposti durante un CDA della Riccitelli e come consiglieri comunali per noi è un obbligo segnalare questi dubbi che sono stati esaminati durante questo CDA. Ci interessa che vengono fatte le cose legittimamente e quindi chiediamo solamente che quanto viene dichiarato poi corrisponda effettivamente in realtà. Noi diciamo non stiamo affermando il contrario ma stiamo solamente riportando dei dubbi ascoltati. C'è un bando iniziale fatto un po' in modo superficiale e dove insomma si è cercato quasi di dare via a questo teatro comunale al primo che se lo prendeva insomma quindi perché ci sono delle problematiche di manutenzione, di costi abbastanza elevati però per chi vuole autocandidarsi a Capitale per la Cultura 2020 insomma penso che sia una cosa che vada nella direzione opposta. Abruzzo Circuito Spettacolo è stato l'unico soggetto a partecipare al bando per la gestione del Cineteatro Comunale di Teramo e se mai si accertassero dichiarazioni false che possano rendere nulla la giudicazione sarebbe un bel guaio per la città che da due possibili stagioni teatrali resterebbe senza spettacoli e senza teatro.